Musica Curva dei contagi in discesa, le marche restano da zona gialla l'atteso dal governo un nuovo decreto con il cambio delle regole covid e del sistema a colori delle regioni Studenti in isolamento e in quarantena a Pesaro da lunedì agli ai test rapidi in un centro allestito da aspese comune la regione annuncia tamponi gratis per i bambini delle elementari Procura dei anche ad Ancona, depositate le denunce di protesta contro il governo Draghi e le norme anticontagio lunedì sarà la volta del Tribunale di Pesaro Richiede il reddito di cittadinanza ma non sa che l'ex compagno è finito in carcere e non lo comunica i finise e donna finita processo è stata assolta ieri dal GIP del Tribunale di Pesaro Parco urbano da marzo al via i lavori per il secondo e terzo lotto aree di sosta con panchine, alberi e un collegamento ciclopedonale l'assessore Mascarini illustra il progetto che finalmente sta diventando realtà Bilancio i numeri da capogiro per il Natale che non ti aspetti boom di visitatori e di like in sei settimane di venti per Bartocetti è stato un grande successo nonostante le restrizioni anti-covid garantite da centinaia di volontari buonasera lo avete sentito nelle marche migliorano i dati sul coronavirus con l'incidenza in flessione rispetto alla scorsa settimana i numeri restano da zona gialla anche se atteso dal governo un nuovo decreto per superare il sistema a colore ancora oggi però si fa riferimento alla saturazione dei reparti per covid in base all'ultimo bollettino dell'osservatorio epidemiologico della regione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta al 22,3% mentre quella dell'area medica si attesta al 29,7% e da lunedì a Pesaro sarà attivo il nuovo centro tamponi dedicato agli studenti è necessaria la prenotazione e i test verranno eseguiti a prezzi calmerati in base alle fasce di età a Pesaro il gruppo Aspespa che gestisce nove farmacie comunali in città e una gabice mare allestirà un centro tamponi dedicato agli alunni delle scuole pesaresi infatti grazie al potenziamento del personale dedicato a servizio nella farmacia di Soria in via Laurana 1 dal lunedì 31 gennaio si eseguiranno i test antigenici rapidi a tutti gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori per prenotare occorre chiamare il numero di telefono 345 09 23 163 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 il costo dei tamponi è ridotto a 12 euro per gli alunni fino a 12 anni mentre per gli altri fino ai 18 non ancora compiuti il prezzo rimane di 8 euro abbiamo fatto questa scelta come farmacie comunali di Pesaro di aprire un ulteriore app tamponale destinato agli studenti perché negli ultimi giorni col fatto che c'è la DAD a distanza tante classi oltre il 35% delle classi sono a casa in quarantena preventiva insomma dietro ai contagi che ci sono stati da parte degli studenti con la possibilità di rientrare a scuola dopo 5 giorni quindi con il tampone T5 le richieste erano tantissime erano tante le famiglie che ci cercavano per poter venire nelle nostre farmacie a fare il tampone di uscita insomma dalla quarantena e abbiamo deciso di venirgli incontro e anche di cercare di venire incontro le famiglie anche dal punto di vista economico calmerando il prezzo abbassandolo ulteriormente rispetto ai 15 euro previsti Ancora una volta proseguito il presidente di Aspes Luca Pieri le farmacie comunali rafforzano il loro ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio valorizzando la finalità sociale Pieri ha poi lanciato un appello alla regione Marche Alla regione la cosa che chiediamo uno è quello di cercare di uniformare sotto il profilo delle prassi che servono per l'uscita dalla scuola ma anche l'uscita dalla quarantena con le regioni limitrofe perché la confusione purtroppo che viene generata è tanta le risposte che veniamo chiamati a dare molto spesso non competono a noi che insomma gestiamo le farmacie ma competono ai vari servizi sanitari regionali e in più la richiesta anche di poter abbassare ulteriormente il prezzo dei tamponi per i ragazzini dall'elementari fino ai 18 anni anche qui viene tanto le famiglie si sentono tra virgolette vessate anche dietro tutti i problemi legati alla pandemia anche con questo ragionamento dei tamponi e quindi oltre a quello che riusciamo a fare noi portando il prezzo al limite della gestione sulle nostre farmacie probabilmente come già avvenuto in altre regioni sarebbe opportuno che la regione mettesse dei fondi per poter andare ad abbassare ulteriormente il prezzo si è svolto oggi in tutta Italia il procura dei una delle iniziative in cui si articola la mobilitazione nazionale lanciata dai movimenti di resistenza costituzionale contraria al green pass e alle politiche del governo Draghi ad Ancona sono state depositate le denunce alla procura della repubblica presso il tribunale sulle gravi violazioni dei diritti si legge in una nota perpetrate con l'emanazione di norme discriminatorie che stanno conducendo all'emarginazione di tutti i cittadini sprovvisti del lasciapassare nessun diritto costituzionalmente garantito può essere negato da un'autorizzazione rilasciata dal governo o dal regime di turno hanno continuato sulla base di un arbitrio che nulla ha di sanitario per tante ragioni vorrebbero portarci nel sistema di controllo sociale già in vigore in Cina così ci spieghiamo l'adozione delle misure di segregazione sociale e quindi la nascita del governo Draghi che esattamente come avvenne per la Grecia qualche anno fa sta conducendo alla distruzione economica, sociale e politica del nostro paese con il procura dei hanno concluso migliaia di cittadini hanno invece dimostrato di avere la forza di opporsi utilizzando gli strumenti giuridici messi a disposizione dallo Stato di diritto duramente conquistato grazie alle lotte sociali e ai sacrifici delle generazioni che ci hanno preceduto domani e lunedì altri cittadini depositeranno le denunce alla procura di Pesaro a causa del covid Aset S.p.a. continua a registrare un'importante riduzione del personale pertanto è stata costretta a prorogare di un altro mese la temporanea sospensione del centro ambiente mobile solo a Fano quindi fino al prossimo 28 febbraio inoltre la società dei servizi fa sapere che tutti i centri di raccolta differenziata a Fano con gli Almetauro e Pergola rimangono aperti ma gli ingressi continueranno ad essere contingentati per via del personale ridotto ci si potrà comunque presentare senza appuntamento e adesso vi raccontiamo del processo che ha visto protagonista una donna residente a Fano che percepiva il reddito di cittadinanza ma avrebbe dovuto comunicare la carcerazione dell'ex compagno avvenuta nei mesi successivi accusata di aver percepito indebitamente 1.400 euro ieri il GIP del Tribunale di Pesaro l'ha assolta richiede il reddito di cittadinanza e dopo qualche mese finisce a processo ma viene assolta è successo ad una 35enne originaria della Slovacchia ma residente a Fano che aveva presentato la domanda per ottenere beneficio su consiglio del CAF il centro di assistenza fiscale aveva provveduto ad elaborare l'ISEE per il calcolo di quest'ultimo presentato a febbraio 2020 la donna aveva inserito nella dichiarazione sostitutiva unica anche l'ex compagno come componente attratto al nucleo familiare beneficiario del contributo in qualità di genitore della figlia anche se non convivente nei mesi successivi poi la donna è stata convocata dalla guardia di finanza le fiamme gialle l'avevano informata di aver omesso di comunicare all'interrogatore la sopravvenuta detenzione dell'ex compagno finito in carcere il 7 ottobre dello stesso anno in base alla legge infatti la comunicazione era rilevante dal punto di vista della scala di equivalenza che si applica alla formazione dell'importo del reddito dei cittadinanza aspettante gli si contestava quindi di aver percepito indebitamente dall'ottobre 2020 all'aprile 2021 la somma di 1400 euro al processo però l'avvocato del foro di Pesaro Vincenzo Maione che ha difeso la donna è riuscito a dimostrare le diverse criticità la complessità della norma è il fatto che la 35enne non fosse a conoscenza della carcerazione dell'uomo con il quale non aveva più rapporti e ieri il giudice per le indagini preliminari Giacomo Gasparini ha accolto le valutazioni dell'avvocato pronunciando sentenza di assoluzione fermo di indiziato di delitto per le rapine al tabaccaio di via Cialdini all'esercizio commerciale in via 3S ad Ancona del 12 e 26 gennaio ieri i poliziotti delle volanti hanno individuato e controllato un quarantenne anconetano molto somigliante alle immagini del rapinatore ripreso dalle telecamere di videosorveglianza è stato rintracciato in via Montebello in prossimità di un altro esercizio commerciale fattezze fisiche, movenze e alcuni capi di abbigliamento corrispondevano all'autore dei due episodi perquisito è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con manico bianco e lama di 13 centimetri che è stato sequestrato come arma del delitto poi nella sua abitazione è stata rinvenuta la felpa rossa indossata in occasione della rapina del 12 gennaio il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto un plauso agli agenti è arrivato dal questore Cesare Capocasa con spiccato intuito ed elevata professionalità ha commentato il questore i poliziotti hanno fermato un rapinatore che rischiava di diventare seriale con tutte le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica rimaniamo ad Ancona perché l'agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza hanno individuato all'interno di tre tir sbarcati da una motonave proveniente dall'Albania un ingente quantitativo di materiale da costruzione come cemento malta vernice reti metalliche per l'edilizia non in regola con le normative infatti erano privi della marcatura CE e dei dati sull'importatore italiano in alcuni mancava il marchio registrato con l'appendice informativa utile a individuare l'origine del prodotto le attività hanno portato a sequestro di oltre 68.000 kg di materiale da costruzione e all'applicazione della sanzione pecuniaria che va da 10.000 a 250.000 euro nei confronti dei rappresentanti legali delle società con sede nelle province di Monza Brianza e Brescia un collegamento ciclo pedonale panchine e alberi entro l'anno verranno conclusi i lavori del secondo e terzo loto del parco urbano aggiudicati da una ditta di Viterbo buone notizie per il parco urbano a Fano oggi è stato aggiudicato l'appalto a una ditta del Lazio per la realizzazione di due lotti che potrebbero essere terminati entro la fine dell'anno in questi giorni sono in corso da parte dei dirigenti comunali le verifiche dei requisiti richiesti nella gara una volta completati la ditta a metà marzo avvierà il cantiere procediamo spediti ha commentato l'assessore Tonelli al fine di completare questo ambizioso progetto che vede restituire alla città di Fano uno spazio aperto verde e inclusivo gli uffici sono al lavoro addetto anche per la rigenerazione della piazzetta del centro commerciale del vallato l'assessore Mascarin ha parlato invece delle fasi iniziali la prima volta che ho raccolto le firme per richiedere che fosse realizzato un parco nell'area dell'ex campo d'aviazione ha ricordato Mascarin avevo 17 anni dello studente Alice Onolfi a spiegarmi le ragioni e la bontà di quel progetto ha proseguito fu un insegnante il professor Luciano Polverari sono passati 25 anni da allora oggi finalmente quel progetto sta diventando realtà Assessore oggi un altro passo avanti per il parco urbano sì un passo in avanti non solo importante probabilmente determinante perché c'è stata l'aggiudicazione dei lavori del secondo e terzo lotto del primo straccio del parco urbano alla ditta G e B di infrastruttura SRL di Viterbo per un importo molto importante stiamo parlando di 500 mila euro e sarà un intervento che consentirà di realizzare la parte diciamo più importante del progetto del nuovo parco urbano Luciano Polverari e precisamente la parte che sostanzialmente lungo via della colonna abbraccia l'intero quartiere di Vallato ci sarà una ciclovia ci sarà un'area importante per la socialità ci saranno molte isole con panchine e sedute ci saranno piantumature e ci sarà sostanzialmente un parco che finalmente prende forma aggiungendosi a quel primo annuncio di parco che è stata la realizzazione dell'area giochi per i bambini vicino all'asilo girasole quindi un passaggio veramente molto importante perché il parco finalmente inizia a prendere forma come tale e soprattutto diventa uno spazio di socialità a disposizione della nostra comunità e l'assessore Fabio Latonelli ha fatto sapere che stanno per essere conclusi i lavori stradali su via 4 novembre terminata la coordonatura protezione della ciclabile e la segnaletica orizzontale sta per essere completata invece la pavimentazione in San Pietrini posta all'interno dei cordoli poi nel punto di congiunzione tra via della Bazzia via Canale Albani via 4 novembre è stato allargato il marciapiede e di conseguenza è stata sagomata l'isola spartitraffico quest'area rimarrà recintata fino a martedì della prossima settimana per far sì che venga ultimata l'asfaltatura del marciapiede nei prossimi giorni verrà installato davanti al Ponte Rosso un cordolo in gomma per creare tutte le condizioni di sicurezza a Pesdolo invece si sono conclusi i lavori per il rifacimento della pavimentazione delle due palestre del liceo scientifico e musicale Marconi per un importo di circa 40.000 euro cofinanziato in parti uguali dalla provincia di Pesero Urbino e dall'istituto stesso che è l'unico del territorio provinciale ad avere un indirizzo sportivo è stato presentato oggi il bilancio del Natale che non ti aspetti l'iniziativa che nonostante le restrizioni anti contagio ha riscosso un grande successo grazie ai volontari delle proloco della provincia pesarese il presidente Damiano Bartocetti ha illustrato i dati sottolineando il super lavoro di circa 2.000 volontari un intero territorio virale sui social sotto i riflettori dei media nazionali e la pandemia non ha fermato un Natale che non ti aspetti che si è concluso con un nuovo straordinario successo confermandosi come uno dei più grandi eventi del Natale del centro Italia e i numeri parlano chiaro grazie a 25 proloco della provincia di Pesero Urbino con 2.000 volontari dal 27 novembre al 6 gennaio 25 borghi sono stati al centro dell'attenzione 100 uscite sulla stampa periodica tv, radio e web 10.000 like in un mese sulla pagina facebook 20.000 visite nel sito di cui 6.000 in una settimana e 22.000 interazioni al post del testimonial d'eccezione Gianmarco Tamberi grande soddisfazione stata espressa dal presidente provinciale delle proloco Damiano Bartocetti siamo soddisfatti prima di tutto mi sento di ringraziare tutte le proloco della provincia di Pesero Urbino tutti i presidenti le loro famiglie i consigli direttivi e tutti i volontari perché grande è stato l'impegno e se oggi possiamo parlare di un Natale vivace di un Natale che porta un'economia con migliaia di euro sul nostro territorio è grazie all'impegno dei tanti volontari da oggi ci auguriamo di poter fare ancora di più abbiamo in mente di collegare tutte le varie località della nostra provincia con dei mezzi ci stiamo lavorando assieme alla regione ma siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti perché siamo riusciti ad estagionalizzare un periodo che era un periodo spento e quindi con un grande successo di presenza di pubblico e di turisti da tutta Italia ma anche dall'estero di fondamentale importanza rimarcato Bartocetti è stata la collaborazione della regione Marche che sostiene e promuove il Natale che non ti aspetti a seguire il progetto in particolare è stato l'assessore Francesco Baldelli che questa mattina ha sottolineato il successo registrato anche in un anno difficile come quello appena trascorso il quale indica che le marche sono sulla giusta direzione ha dichiarato Baldelli per intercettare non solo il turismo estivo ma anche quello invernale che consente di apprezzare a 360 gradi le bellezze della nostra regione dobbiamo ricordare che in soli 40 chilometri di ampiezza la nostra regione la nostra provincia ha delle bellissime montagne che degradano verso il mare dolcemente con le proprie colline dove sorgono anche alcuni dei borghi più belli d'Italia e allora due sono gli elementi per creare un'industria del turismo in grado di poter competere con le regioni che si stanno specializzando per attrarre visitatori dal resto d'Italia e dall'Europa la qualità e la capacità di aggregazione questo le proloco l'hanno saputo fare e anche in questa direzione sta andando l'iniziativa dell'assessorato alle infrastrutture che insieme a fondazione FS Trenitalia le proloco delle marche sta realizzando un progetto quello del Christmas Rail che nei prossimi anni porterà Babbo Natale a visitare sostanzialmente quindi la magia del Natale l'atmosfera del Natale a visitare i nostri borghi dal sud delle Marche da Ascoli Piceno fino alla provincia di Pesaro Orbino su questo treno dedicato tutto al Natale e a quello che in questa provincia viene definito come il Natale che non ti aspetti grazie all'iniziativa delle proloco domenica domenica 30 gennaio alle 7 con Massimo Foghetti che leggerà insieme a voi i quotidiani arrivederci a a a a Grazie per la visione!